È un dolce tradizionale, pasquale, per fare una buona pastiera serve una buona ricotta, del grano, il latte e il limone per aromatizzare tutto. Tutti i prodotti nostrani, cioè della nostra terra, perché solo col chilometro zero possiamo fare la differenza. Non solo pastiere, ma anche uova di Pasqua e colomba? Sì, le uova di Pasqua sono di cioccolato puro, al latte, fondente, c'è il nocciolato, bianco, poi li personalizziamo con delle decorazioni in pasta di zucchero, oppure con riso soffiato, qualsiasi gusto si vuole. Mentre le colombe? Le colombe ci sono al bergamotto, all'olio d'oliva, al cioccolato tradizionale, qualsiasi gusto, col gelato, con la crema.